Sono ancora in corso gli accertamenti per l'incendio che si è verificato oggi a Castiglione dell'Estiviere in via Cesare Battisti. A prendere fuoco intorno a mezzogiorno e mezzo è stata un'auto con dentro un uomo di 53 anni e i figli della sua compagna di 13 e di 8 anni. Il ragazzo più grande, il 13enne, è stato ricoverato al riguarda di Milano per le lesioni riportate, soprattutto nella parte inferiore del corpo.